Anche quest'anno il Comune di Leffe è sensibile al nutrimento, al modo con cui nutrirsi dei propri cittadini, ma penso che sia un argomento che tutti i Comuni dovrebbero trattare. Ha chiamato la nostra amica, la dottoressa Rossana Madaschi, dietologa, perché ci ha coinvolti già dall'anno scorso in questo tema molto importante. L'uomo è anche cosa mangia e come mangia. La nostra dottoressa ci ha insegnato e ci ha illustrato cosa significa mangiare in modo sano, in modo equilibrato per avere una vita migliore. Quest'anno abbiamo trattato di nutrirsi a tavola e in modo particolare il tema sugli adolescenti, perché è un problema molto sentito e quando torno a ripetere la gente e i nostri ragazzi che sono nel futuro, il nostro futuro, si nutrono bene, automaticamente anche tutto funziona meglio. Il nostro obiettivo con queste due serate è stato proprio quello di sensibilizzare i genitori o comunque tutti i partecipanti a questi incontri ad una corretta alimentazione a tavola. Abbiamo dato tantissimi consigli, abbiamo messo in evidenza quali sono gli errori più comuni degli adolescenti a tavola. In particolare abbiamo messo in evidenza la prima colazione, che spesso i ragazzi non fanno, l'abitudine di consumare degli snack industriali, delle merendine, frequentare troppi fast food, consumare poca frutta, ancor meno verdura e addirittura un consumo quasi nullo dei legumi. E queste abitudini spesso si riscontrano proprio anche tra i genitori. Abbiamo accennato anche a che cos'è l'anoressia, che cos'è la bulimia, quali risvolti ci sono non solo dal punto di vista alimentare e quali strategie si possono adottare per far sì che tutto ciò non accada. Infine sono stati dati dei consigli con gli interventi anche dei genitori con domande personalizzate su che cosa porre sulle tavole dei nostri ragazzi. Quindi dando enfasi ai primi piatti, al consumo dei secondi piatti, quindi non solo carne e pesce, ma anche un consumo più di legumi, quindi di proteine di origine vegetale. Un'altra cosa importante è l'assunzione idrica, che non deve mai mancare. Attenzione per i ragazzi a non utilizzare troppe bevande zuccherine. Questo non vuol dire che non si possono utilizzare, ma comunque il loro consumo deve essere ridotto. Dare preferenza sicuramente all'acqua, all'acqua naturale e abbiamo anche accennato al fatto di fare moltissime attività fisica. Questo perché una buona attività fisica innanzitutto combatte la sedentarietà, riduce i problemi del sovrappeso e dell'obesità che sono stati ampiamente trattati. E abbiamo visto tra l'altro che le cause più comuni del sovrappeso e dell'obesità sono proprio l'alimentazione, la sedentarietà e a volte anche una certa familiarità. Quindi abituare i ragazzi a muoversi, a mangiare in modo sano e questo sarà un ottimo punto di partenza per nutrirsi di salute anche a tavola.